buongiorno il corriere oh vai te? eh amo che ci vanno a te per favore che ci vanno a pensaponate ma sto a capo ai fagiolini ah no dai fammi il favore tanto sicuro è per te ma chi ti ha detto che è per me? scusi ma che è? è l'ultimo numero di cagnette calde porca puttana no mi sa che c'è un errore ha scritto pure non dare a mia moglie oh è zitto